Devo ripetere che io ho nessun problema con l'Inter, è una società a livello internazionale la più forte del mondo, il rapporto con la gente che lavorava là, quasi tutti, era molto buono, con i giocatori era molto buono, quasi tutti, e con i tifosi era buono, non ho nessun problema, io vado là per fare il mio lavoro, al 100% voglio vincere perché sono allenatore del Napoli, sicuro che loro faranno lo stesso, provano a vincere la sua partita e basta, dopo guarda avanti.